Palermo si risveglia con il Monte Cuccio ancora imbiancato, segno che l'inverno non ha allentato la sua morsa, anche se il maltempo sembra aver concesso una piccola tregua. Un alternarsi di acquazzoni e grandinate, accompagnato da un calonetto delle temperature, ha preso in ostaggio l'isola, che è dovuto fare i conti, pure con un forte vento che ha costretto i vigili del fuoco ad intervenire in molti quartieri. Numerosi allagamenti in varie zone della città che hanno creato rallentamenti alla circolazione. Alcune auto sono rimaste bloccate per tombini scoppiati o per rami caduti dagli alberi. Le zone maggiormente colpite dai disagi sono stati Mondello, Lozen, Vioretto, Curillas e la circomallazione, con sottopassaggi allagati negli attraversamenti all'altezza di Via Belgio e Via Lelazio. Anche il resto della regione ha dovuto far fronte al maltempo e un'insolita nevicata. In alcune località la neve è caduta già a partire dai 400-500 metri di altitudine. A dover fare i conti con il mare agitato sono state invece le isole minori, saltate le corse di alliscafo tra Ustica e Palermo e tra Legadi e Trapani, disagi anche negli scali delle isole eolie, dove le onde e il mare grosso hanno impedito le manovre di attracco. Sembra però che il peggio sia passato. Per i prossimi giorni è previsto un lieve miglioramento delle precipitazioni con l'aumento delle temperature e venti più moderati.